Ciao ragazzi sono 7 e benvenuti in un nuovo video Oggi signori riprenderemo la nostra bellissima classifica dei personaggi di Vikings In particolare in questa sezione della classifica, la parte 2 Riprenderemo con personaggi che semplicemente si sono rivelati inutili ai fini della trama Oppure che sono spariti e non trovano un loro senso logico nella conclusione del loro arco narrativo Oppure semplicemente personaggi che sono lì e non si sa che cazzo sono lì E questo è il punto di questa parte di classifica Allora voglio togliere mi stassolino dalla scarpa subito e mettiamo Porun al posto numero 51 Perché signori la metto lì? Perché non ha avuto un senso logico signori Perché è entrata come personaggio che poteva essere potenzialmente qualcosa di grande Cioè un amore per Bjorn Ma pensavo che tornasse almeno nelle stagioni quelle successive alla terza o alla seconda Quando è sparita del tutto E pensavo potesse effettivamente essere qualcosa tipo un ritorno di fiamma Qualcosa che dicevi Bjorn ti si è bombato tutto e adesso ritorno io No, non è niente di tutto questo Se ne è andata semplicemente lasciando Bjorn con una figlia di cui non si è curato minimamente Che poverina è deceduta, ignorata da tutti quanti Questa è la cosa più brutta che ha fatto Bjorn secondo me Ignorare del tutto sua figlia E niente, è rimasta appunto senza una conclusione Se ne è andata semplicemente da Kat e Kat e basta Ha lasciato l'obbligo di curare sua figlia da parte di Aslog Che poi se ne è tutto disinteressata E niente, se ne è andata via così Ripeto, è un personaggio che mi piaceva, mi piaceva molto Eppure dopo che si è sfregiata il volto e ha detto No, adesso Bjorn mi vuole più, Bjorn non mi vuole più È andata via e chi ne ha vista più? Qui mi piange davvero il cuore dire qualcosa del genere Perché Gida era un personaggio veramente che avrebbe avuto un potenziale incredibile Gista ha fatto un errore clamoroso a farla ammazzare nella prima stagione per peste Gida era la unica figlia femmina di Ragnar Avrebbe potuto avere un'influenza incredibile su di lui E cambiarlo molto, molto Avrebbe potuto essere lei addirittura l'erede di Ragnar Un'erede donna Invece no, no, è stata eliminata così dalla... Dalla serie E mi è dispiaciuto tantissimo Perché davvero se fosse stata sviluppata insieme agli altri fratelli Probabilmente adesso potrebbe avere anche una, diciamo, una competitor Per quanto riguarda Bjorn per la guida dei fratelli, tra virgolette Per quanto erano uniti Io veramente pensavo che Gida potesse durare anche gli ulteriori stagioni Per poter influenzare suo padre Per dare la sua impronta nel mondo vichingo Eppure non è stato così, è davvero uno spreco Sarebbe stata una scigmede con i fiocchi a mio parere Sì, lo so, lo so Sette, perché metti Torvi tra gli inutili? Ragazzi, allora Torvi non è che mi è stata sempre particolarmente simpatica, devo dire E nel senso, cioè, la sua presenza a volte è totalmente casuale Cioè, tipo, mogli di Erlendur Poi mogli di Bjorn Poi adesso mogli di Ubbe Cioè, si, si, se la passano uno con l'altro E adesso c'è tutta sta costruzione, no? Del fatto che adesso ha partorito, ha avuto un figlio E che ha chiamato Ragnar Ok, bene, però nel senso Non è un personaggio a cui mi sono affezionato così tanto per dire Cazzo, voglio dire, una nuova vita che nasce Ok, bene, sono contento per te, Ubbe Il problema è che non, cioè Non è che mi ci sono affezionato a Torvi Se qualcuno mi è affezionato, chiedo scusa Però, cioè, nel senso Voglio dire È sempre stato un personaggio a me Nel senso, ho inserito un po' a caso Una appesegazione plausibile di questo Poteva essere il fatto che Torvi è figlia di Michael East Ma anche Elga è figlia di Michael East Elga è centomila volte superiore Alla sorella, gemella, quello che è È molto superiore rispetto a Torvi Che viene messa lì senza un senso logico E insomma Vabbè, secondo me è un personaggio che Lascia il tempo che trova Ah sì, Heather Redd Il personaggio di cui non sapevamo per niente il nome Fino alla quarta stagione Alla quinta stagione a più o meno Ebbene sì, è un personaggio inutile Perché prima di tutto All'inizio era semplicemente l'altro figlio Cioè il figlio quello Ad avuto in maniera legittima Tra virgolette Di Ederwolf Il problema è che dopo Quando ha avuto un nome Quando ha avuto una dignità Questo personaggio Finalmente Me l'hanno ammazzato Visto me l'ha ammazzato Perché quando si stava a sviluppare un attimino Per i complotti contro il fratello In realtà lui era sempre stato dalla parte del fratello Non voleva tentare la sua vita Quella gentil donna della madre L'ha appunto massacrato E appunto perché voleva tentare Forse al trono del figlio Quello che voleva Eckbert Ed è stata qualcosa che mi ha lasciato così Perché finalmente che si stava Soprofondendo Finalmente che si stava sviluppando Con i suoi ideali Con la sua personalità Heather Redd Me l'ammazzi così Cioè East ha veramente un tempismo di merda Per ammazzare i personaggi Allora non è che Ella sia probabilmente un personaggio inutile Ha la sua utilità Negativa ovviamente Nel corso della stagione Il punto è che Cioè lui Si autoglorifica Pensando di fare qualcosa di grande Non capendo in realtà Che è Ragnar Che si autoconsegna a lui E il fatto che Eckbert Gli concede appunto Ragnar Lodbro Non il contrario Perché Eckbert Avrebbe potuto lasciarlo andare tranquillamente Avrebbe potuto tenerselo per sé Ma era Ragnar che voleva morire Ragnar che voleva fare certe cose E quindi si autoglorifica Dicendo Oh finalmente io ho ucciso Ragnar Lodbro Che ucciderò tutte I suoi soldati Che verranno a conquistare Questo territorio della Northambria Per proprio venire segato in due L'esercito totalmente massacrato Dal grande esercito pagano E alla fine gli viene fatta L'aquila di sangue Non diciamo Nego che ho goduto Veramente come un riccio Quando gli Ayrton Ho fatto l'aquila di sangue Ho veramente Diciamo E lì Ho proprio Sparato lo spumante Anche lì Il punto è che Sì È molto inutile Nella sua Voglio dire Ignoranza Nella sua Tracotanza Perché Non riesce a Diciamo Essere un re Degno Per quel Suo regno E Echbert può manipolare Tranquillamente Per i suoi comodi Così come Quentritt Echbert è uno che manipola Ma con Ella È molto semplice È uno stupido Mi sapete dire Qual è il senso Dire Carlo Il semplice Cioè Lui si vanta Di essere discendente Di Carlo Magno Ed è vero È discendente Di Carlo Magno Il punto è che Questo personaggio È talmente irritante Inutile Nel senso Dici Tu vai a difendermi Questa roba qua Tu devi sposarti Con il rollo Tu devi fare questo Tu devi fare l'altro Ma non alza mai Le chiappe da quel minchia di trono Per fare direttamente Le sue azioni Come un vero re Dovrebbe fare Andare direttamente A risolvere certe questioni E lasciando tutte le incombenze Ai generali Alla figlia Cioè Dal culo della figlia A rollo Perché appunto Vuole siglare un'alleanza Con i vichinghi Che è una cosa Che si faceva Lo so Lo so bene Che si faceva Però il fatto Che lo fa con Natale Non curanza Che Cioè Veramente mi lascia lì Cioè Re Carlo Il semplice È stato veramente Uno stronzo Se veramente Ricalca fedelmente L'immagine Perché ok Che dice di senso Da Carlo Magno Ma di Carlo Magno Non è manco Il mignolo sinistro Per dire no Mi duole ammetterlo Signori Ma qual è stato Il senso Di Enrico il Rosso Fino ad adesso Cioè nel senso Ho capito Che manca ancora Una stagione Da dieci episodi Ma quanto Vuoi costruirmi In dieci episodi Nel senso Io pensavo Che Enrico il Rosso Fosse una parte fondamentale Della stagione 6 Lo aspettavo Con tanta intensità E con tanto Appunto Attesa E invece Enrico il Rosso Semplicemente È entrato lì Ha prosalvato Bjorn Questo è ok E poi Ha perso Qualche battaglia E poi Ha fregato La colonna di Harald E basta Non ha fatto nient'altro Nel senso È rimasto lì Con Bjorn E ok Ma volevano Un'impronta Un po' più Insomma Decisa Per un personaggio Così importante Nel mondo vichingo E essa Secondo me Ci ha dedicato Abbastanza tempo Perché alla fine Quanti di voi Si ricordano Un'azione Che ha fatto Enrico il Rosso A parte aver salvato Il culo a Bjorn Quanti si ricordano Per qualcosa Che ha fatto Effettivamente Utile nel gioco Dei vichini Alla fine Anche lui È stato sconfitto Nella battaglia Quella Grando E Bjorn È stato Presumibilmente Ucciso Quindi Mi spiace Per il culo Speriamo Che la stagione Seibili Dia Una dignità Che si merita Io non capirò Mai perché A ogni stagione Che passa Bjorn È avere sempre La donna Che si bomba In ogni stagione Io non ho capito Questo 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 Continua A costarsi Di ist Al fatto Che Bjorn Ogni singola Stagione Deve bombarsi Qualcuno Non l'ho capito Sinceramente Mi lascia un po' Stragnato Però a parte questo Cioè Ingrid È nient'altro Che appunto Una schiava Qualunque Che Bjorn Si bomba Che però Ve ne è fatta Esaltare In quanto Lui vorrebbe Sposarla Cioè Ha avuto Tante Tante Di quelle Donne Che si è Bombata Ma lei Proprio Lei vuole Sposarla Perché So Perché Presumo Bomberà Meglio Degli Altre Penso Oppure L'ho Ammagliato Con la Sua Con Suo Fascino O altre Cose Tra l'altro La povera Gunild Deve vedersi Tipo Sposare Bjorn Insieme a Ingrid Per diventare La seconda Moglie No Veramente Povera Gunild Chi cazzo Te l'ha fatto Far amaritarti Con Bjorn E Niente Ingrid Semplicemente È quello che è Una schiava Che per carità Ha la sua personalità Ha quello che è Ma non capisco Tra l'altro La scena Sulla finale Che va da Olaf E piange Non l'ho capito Sinceramente Qualcosa Che mi ha lasciato Proprio il cringe Non l'ho capito Però a parte questo Ingrid Che cos'ha Di così Speciale Che la distingue Da tutte le altre schiave Che Bjorn Si è bombato Non lo so Chi è di il naso storto O flat nose Quindi naso piatto Quello che è È un personaggio Che non reputo Brutto Ma è Diciamo Quasi inserito A caso Nel fatto che Si contrappone A Eivind Nella costruzione Della Appunto Della colonia D'Islanda E Appoggia Floki Ma il punto È che Non è Di grande Rilevanza Per tutto Il corso Dell'arco D'Islanda E quando viene Contrapposti Floki A Eivind Per decisioni Però Nell'ultima parte Dell'arco D'Islanda L'arco D'Islanda L'arco 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 Mi aspettavo pure Che facesse Una spia A un certo punto Però non c'è Ancora concesso Il privilegio Di vedere Una spia Però Quando la vedrà Proprio Sparerò Ancora un altro Sfumante Il punto È che Non ha Un senso Per chi Dopo ritorna Nella stessa stagione Che chiacchiera Con Ube Riguardo al fatto Di Oter La possibile Golden Land È ok Magari C'è un piano Segreto Per ammazzare Ube O chi sia Voglia Ma Fino adesso Si è rivelato Abbastanza inutile Devo dire E poi signori Arriviamo Senza Diciamo Sorprese Senza Alcuna Diciamo Rivelazione Chissà cosa No Arriviamo Al personaggio Più inutile Che ovviamente Vizzerk Vizzerk Vincenzo Per gli amici Il personaggio Che mi ha lasciato Più deluso Da Viking Di tutti quanti Cioè Il figlio di mezzo Quello che non ha mai avuto Uno scopo Quello che passa Da una bandiera All'altra Con la stessa facilità Con cui Non lo so Si cambia Nella stagione Per dire No E qualcosa Di veramente Assurdo Che questo personaggio Non abbia ancora Uno scopo Nella sua vita Cioè La profezia del veggente Diceva che lui Doveva fare qualcosa Di grandissimo E avrebbe pagato Un prezzo caro Molti pensavano Che questo qualcosa Di grande Fosse l'omicidio Di Ivar Eppure E' tornato Dalla sua parte Ma tranquillo E' tranquillo Pensavo che all'inizio Fosse tutto un fake Per dire Ma si adesso Uccido Ivar Invece no Gli ha salvato Dalla battaglia Qualcosa che Cioè Questo qui Ti ha ammazzato La ragazza Ti ha esiliato Ti ha torturato Psicologicamente E tu Sei disposto A tornarci insieme Perché Non lo so E' qualcosa di inutile Vincenzo assolutamente inutile Non gli viene neanche Diciamo Concesso a una morte Epica sul rogo Mentre guarda il cielo Non gli è concesso Nemmeno questo Pior Lo dirà giù E lo far diventare L'inutile Che Vincenzo signori Deve trovare il suo scopo E spero che Nella stagione finale Vedremo qualcosa E questo è tutto Spero che vi sia piaciuto Il video E che non vi siate offesi Siamo adesso tra gli inutili Il posto personaggio preferito Non mi pare che sia il caso Comunque Noi ci vediamo Al prossimo video Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate E ditemi voi Chi mettereste Nella classifica Degli inutili Ciao ragazzi